Come agli esseri umani, anche agli elettroni piace viaggiare in vie larghe e poco trafficate. Quindi l'ideale è accoppiare un buon caricabatterie ad un bel cavo con dei fili abbastanza spessi. Ma a volte anche questi cavi belli spessi si rompono, ma conviene dargli una seconda chance. Quindi la riparazione è d'obbligo, visto che spesso i cavi economici fanno veramente pena arrivando a dimezzare la capacità di ricarica del caricabatterie. Infatti questo cavo dopo la riparazione consente di ricaricare a quasi 1A, cioè la quantità massima di corrente rogabile dal trasformatore collegato in questo caso. Per la riparazione basta pazienza e sanque freddo, e dimenticatevi di viti e bulloni, tutto incollato, pressofuso, eccetera. Ma nonostante tutto è fattibile. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.